Carige Assicurazioni e Carige Vita Nuova costituiscono il comparto assicurativo del gruppo Banca Carige, del quale fanno parte cinque banche, una società di gestione del risparmio e una società finanziaria. Le società assicuratrici sono in grado di soddisfare le numerose esigenze aspettative degli assicurati grazie alla solidità del gruppo finanziario di cui fanno parte. Conosciamo il mercato assicurativo dal 1920. La lunga tradizione ci porta in dote l'abitudine di conquistare la fiducia dei nostri clienti con la trasparenza di un'etica professionale consolidata, consentendoci di allargare l'offerta dei nostri prodotti assicurativi e finanziari, ha una gamma in grado di soddisfare le molteplici esigenze di tutela assicurativa.